Da 16.690 euro Zoratiro carica il destro Zalagetta La deviazione vincente E il Panteron Non esulta Per rispetto ai suoi ex tifosi Non esulta ma determinante questo tocco Su un tiro di Boucher che non sarebbe finito Nello specchio della porta Ma la conclusione era pericolosa Perché ha costretto De Santis a spostarsi E andare verso la traiettoria Zalagetta ha toccato da una distanza Su cui il portiere non poteva veramente più fare niente Occhio al Bucchio in era di rigore Parte Ada Hilton Pallone che filtra Ada Hilton 2-0 Calcio di punizione straordinario da parte di Ada Hilton Perché pur da molto lontano È riuscito a dar forza a questo cross Non l'ha toccato nessuno È schizzato sul terreno bagnato Niente da fare per De Santis Che ha aspettato di vedere una deviazione E quando è partito su quel pallone Non ci è riuscito ad arrivare Hamsic prova a liberarsi Tiro fuori per pazienza Ha colpito molto male Nesce fuori un assist però Lavizzi Pocchio al cross Pallone buono dentro Di testa Rinaudo Che inizia partita Napoli che torna subito Grande reazione nervosa da parte del Napoli Che colpito Si riversa nella metà campo del Bologna Qui Rinaudo schiaccia Salta da solo All'interno dell'area di rigore Niente da fare per Viviano Veramente un grande inizio di partita Guana Ottima l'apertura Per Adahilton Attenzione ad Adahilton Si porta il pallone sul sinistro Lo carica De Santis Prova Campagnaro Il suo cross Dentro Al volo Lavezzi Poi il destro di Gergano Viviano dice di no Grande opportunità Per il Napoli Quagliarella Viviano Con un piede Dice di no Parata difficilissima Cross dentro Portanova Non arriva E poi Incredibile occasione Fallita da Succi Che poteva regalare il gol del 3 a 1 Gergano Cigarini Nuovo entrato Eccolo qui Cigarini Cigarini Col destro dentro Pallone che filtra Che opportunità per il Napoli Quagliarella Prova a liberarsi Ancora Dennis A zona tiro Carica il destro Dennis Esce di pochissimo C'è stata deviazione Lavezzi Cerca il tocco Lo trova Sarà calcio d'angolo Non c'è più tempo Ha vinto